buongiorno gente e di nuovo ben trovati oggi come l'ha visto il titolo ho preparato degli antipasti per la vigilia o per il pranzo di natale sono 4 antipasti fatti con la pasta sfoglia molto semplici da fare nel video non sentirete la mia voce ma vedrete solo delle scritte anche perché durante il montaggio quel giorno avevo un raffreddore incredibile però le ricette sono talmente facili che non c'era bisogno di commentare più di tanto e quindi vediamoci ingredienti e ricetta e noi ci vedremo al prossimo video buona giornata a tutti un bacione grazie a tutti 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 a tutti a tutti a tutti grazie a tutti 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 a tutti